Splenda il sole sull'economia lombarda, ma le nubi scure all'orizzonte sono minacciose. Con questa frase il direttore della Banca d'Italia Giuseppe Sopranzetti dipinge il quadro del settore economico regionale del 2017. La situazione è legge la ripresa, ma la cautela è sempre d'obbligo in un mercato fortemente condizionato dagli assetti internazionali. Il numero uno dell'Istituto di Credito Nazionale, presente ieri a Sondrio presso la Sala Consigliare della Provincia, per illustrare il report annuale dell'economia lombarda, parla di piccoli passi avanti. Nello scorso anno il PIER è cresciuto dell'1,7%, seppure il territorio non abbia ancora recuperato il divario accumulato negli anni precedenti, con le regioni dell'Unione Europea, analoghe alla nostra, dal punto di vista economico e produttivo. Piccoli segnali di ripresa anche nel settore industriale, cresciuto dal 3,7%, nel quale si registra un incremento delle start-up e dei brevetti, quest'ultimi saliti a 143 per milioni di abitanti. Miglioramenti sia sull'export delle imprese, 7,5% in più rispetto al 2016, che sulla loro reddittività. Quasi l'80% di esse ha conseguito un utile nel 2017. Salgono dell'1,6% su base anno i pre-seti bancari alle aziende, sintomo di come il mercato si è ripresa. Altrettanto ripresa è il settore del lavoro. Il numero degli occupati è cresciuto dell'1,7%, fattore che ha agevolato l'espansione del reddito disponibile e delle spese delle famiglie. I depositi bancari del credito al consumo sono infatti saliti rispettivamente dal 2,2% dell'8,2%. Al contrario, si riduce la spesa pubblica sia in regione che nelle province, diminuita dall'1,1%. Calano anche gli sportelli bancari, ma si rafforza la diffusione dei canali innovativi di contatto fra le banche e la clientela. I servizi ora viaggiano soprattutto attraverso piattaforme digitali. Spiragli di luce anche sulla qualità del credito erogato. L'incidenza dei nuovi pre-seti deteriorati sul totale dei finanziamenti si è riportata sui valori pre-crisi, pari all'1,4%.